Per uscire dalla gabbia, devi prima entrarci. Adesso, signori, un incontro straordinario, davvero emozionante. Una Milano che non avete mai visto, o che non volete vedere. Mal, guardami, perché sei qui? Te lo dico io. Sei qui per te, non per tuo figlio, non per me. E nemmeno per la tua fottutissima vita, sei qui per te, Al. In diabia sarai solo. Perché tu peggior nemico, la casa di tutto, sei tu, Al. Tratto dalla storia vera di Alberto Lazio. Hai bisogno di un padre. Di un padre, sì. Non direi. Se abbandoni le persone a cui vuoi venire, la colpa è tua. Non mi denudere. Mi darmi i soldi adesso. Però quanto tu oggi si faccia, ce l'hai, non male contro il lavoro. Adoro un sintetico, cazzo. Cioè, più è merda di laboratorio, più gli piace. Non c'è più la droga di una volta. Garantesci tu? Perché ammazzare uno che c'ha le mie palle quando potrà lavorare per me? Il primo film con il finale scritto dalla verità dell'incontro. Milano, ma un po' stancato. Milano in the cage. Che cazzo è questa storia che tu facevi la puttana nella mia 2000? Ma vaffanculo. Dal 18 maggio al cinema.